ciao a tutti siamo qua all'alpe di monghi d'oro il rifugio fantorno con luca d'angelo direttore del miti pagarella bike avanti 5 600 metri ai th dark side 6 line e vertica noi siamo siamo qua con luca per presentare una nuova partnership tra bologna e montana e domenica pagare la bike si è stata bellissima giornata per noi era la prima volta qui a bologna montana baicare ovviamente ci conoscevamo già ci siamo già incontrati anche in in paganella ma per noi l'occasione anche per venire a vedere il lavoro straordinario che avete fatto sui sui trail e anche sulla comunità e come dolomiti panella bike abbiamo lanciato questa idea di fare una collaborazione un po forse inedita nel mondo bike cioè due bike aree molto diverse che si parlano e collaborano quindi partirà credo da oggi praticamente ufficialmente questa collaborazione proprio importante seguire questa linea di supporto dello sviluppo della mountain bike qualsiasi tipo di mountain bike sia qualsiasi tipo di resort sia perché vorremmo proprio creare questo network di persone che credono in questo sport e allargare il più possibile le collaborazioni per questo che abbiamo vogliamo supportare la vostra la vostra bike area con varie varie attivazioni che faremo durante la stagione soprattutto con un obiettivo è quello di supportare il vostro lavoro nella manutenzione dei tracciati quindi andando anche a dare dei premi magari a chi sarà più virtuoso dei vostri bikers chi vi sopporterà di più potrà venire alla di più i pelari di più ma anche chi vi supporta di più noi siamo veramente molto molto orgogliosi di questa nuova partnership una collaborazione che non ci aspettavamo sicuramente come diceva luca in programma ci sono varie possibilità per i nostri utenti fruitori dell'area creeremo pacchetti e proposte le cose arriveranno è una parte che nasce oggi sicuramente nasceranno anche nuove idee lavorando collaborando insieme ne abbiamo già parecchie in cantiere insomma non vediamo l'ora poi di venire di noi tornare qui e di vedervi anche su da noi se tocca a noi tornare esatto come aspettiamo anzi all'opening sicuramente vi aspettiamo saremo presenti all'opening col nostro gazebo merchandising e per presentare a tutti voi il progetto proprio a voce super